Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Assessore Azzaretti, buongiorno. Ci avviciniamo alle festività natalizie. Al di là del significato religioso rappresentano senza dubbio un'occasione importante sia per il commercio che per la programmazione di eventi culturali. Cominciamo proprio dal commercio. Quale iniziativa ha adottato il Comune per sostenere i commercianti in questo periodo di feste? Abbiamo aperto un tavolo con i rappresentanti delle associazioni e già da alcuni mesi ci siamo confrontati per arrivare per l'anno prossimo a una programmazione condivisa, spalmata su tutto l'arco dell'anno e per Natale a pianificare e organizzare insieme una serie di iniziative. Tra queste, oltre all'illuminare e all'illuminazione artistica che è comunque del settore cultura, i commercianti si sono uniti e per la prima volta dopo tanti anni hanno trovato condivisione. Forse mi hanno anche ridato davvero fiducia perché si sono autotassati per appunto realizzare la filodiffusione. Insieme a loro realizziamo tante iniziative a partire già dal prossimo weekend e poi il 12 e il 13 ci saranno momenti di aggregazione, di divertimento, di intrattenimento per grandi e piccini da Piazza Duomo alla Via Emilia insieme ai mercatini. Poi un'altra bella iniziativa avviata con i commercianti è quella del Maxi Sermo con la proiezione di cartoni animati natalizi che verrà posizionata in due postazioni diverse il 12 e il 13 di dicembre e poi dal 22 al 24 dicembre iniziative anche in Viale Carlo Marx e dal 19 al 20 abbiamo varie iniziative anche sotto i portici di Piazza Duomo in altre aree della città. Però è proprio importante questo inizio di collaborazione e mettendo insieme tante iniziative autogestite da parte dei commercianti medesimi. Quindi anche cultura comunque, no? Assolutamente, ci saranno anche durante il periodo natalizio ci saranno tante iniziative culturali, concerti, mostre, iniziative per tutti i gusti ad iniziare dall'8 dicembre alle ore 17 presso il ritrovo una stupenda struttura della nostra città, ci sarà appunto il Don Pasquale un momento di intrattenimento lirico però piacevole d'aperto a tutti e da seguire tanti altri concerti e iniziative. So che forse non le farà piacere però viene spontaneo pensare al grande scalpore suscitato dalle dichiarazioni di una titolare di una pasticceria di Via Zanardi che lamentava il fatto che le periferie sono scarsamente tenute in considerazione dal Comune. Quali sono le attività fuori dal centro storico previste per le prossime settimane? Ma il discorso non è tanto di quali sono le attività previste il discorso è neanche della presa di posizione un conto è una presa di posizione, un conto è un progetto concreto allora la vera differenza tra l'alzare la voce o lo scuotere senza fondamento, un fondamento, un progetto realizzabile ed attuabile mentre gli commercianti che si sono mossi per attivare queste iniziative in centro si sono tirate sulle maniche e le hanno realizzate in prima persona quindi quello che è importante è io ho parlato con tanti commercianti proprio di Viale della Repubblica i quali anzi hanno dimostrato la loro estrema condivisione dei miei obiettivi e della mia filosofia di lavoro se ci sono dei gruppi di commercianti che vogliono attivare delle iniziative sia le associazioni che l'assessorato è più che disponibile a supportarli ad aiutarli e ad affiancarli in qualsiasi maniera l'importante è che le iniziative siano realizzabili, concrete e siano anche autogestite per quello che è di competenza dei commercianti insieme alle associazioni comunque io ho già proposto ai rappresentanti delle associazioni una serie di iniziative che si troveranno finanziamente magari con anche il contributo come è successo qua appunto per la filodiffusione per queste iniziative natalizie, l'anno prossimo troveranno anche la condivisione economica dei commercianti delle varie aree in cui vorremmo andare a lavorare ho in mente dei progetti con delle iniziative che potranno andare nella fascia che circonda il centro storico per poi andare anche nei quartieri insieme a Voghera sotto le stelle quindi tutta una serie di iniziative che andranno a intrecciarsi tra di loro ma come già è stato fatto in passato se c'è un gruppo di commercianti, se c'è un commerciante solo questo commerciante chiede l'occupazione del suolo pubblico e attiva un'iniziativa all'esterno della sua attività e questo ben venga se soprattutto si va magari a inserire nel contesto di tutte le altre iniziative che vengono realizzate nel periodo e si concerta con altri commercianti se un gruppo di commercianti vuole attivare un'iniziativa allora si può rivolgere all'associazione e organizzare insieme all'associazione insieme al comune un'iniziativa Certo, è molto chiaro. Prima ha citato le luminarie quest'anno le periferie, sbaglio, saranno più illuminate degli scorsi anni Sì, il discorso è questo, che c'è la disposizione dell'illuminazione voglio dire, io cerco di andare incontro a tutte quelle che possono essere le esigenze della città per cui mi occupo anche di cose che non sono di mia competenza però voglio dire che la disposizione delle luminarie è storica, è tradizionale io capisco che sarebbe bello illuminare tutta la città io ho chiesto quest'anno se era possibile di spalmare l'illuminazione il più possibile anche nelle vie di accesso alla città il discorso c'è un budget, poi c'è anche sempre la critica perché vengono spesi dei soldi per le luminarie poi però tutti vorrebbero le luminarie nelle loro strade allora dobbiamo deciderci perché non si può accontentare tutti comunque tradizionalmente le luminarie in qualsiasi città sono nel centro storico poi si hanno una forma di illuminazione anche nelle vie di accesso vedete che c'è anche l'illuminazione artistica nella zona della stazione, piazza San Bovo, piazza Meardi il budget è quello, la città dice vogliamo spendere di più si riescono a recuperare maggiori finanziamenti per le luminarie però mettiamoci d'accordo però quali vie tagliamo fuori e fin dove arriviamo allora bisogna anche un attimo pensare mettiamoci tutti, ognuno qualcosa di suo Problema sicurezza, in piazza San Bovo e nella zona della stazione verrà potenziata l'illuminazione con nuove lampade questo quando avverrà e qual è l'obiettivo? Nel capitolato di manutenzione dell'illuminazione da parte di ASM era previsto un 10% per manutenzione straordinaria all'anno io ho individuato come priorità, come manutenzione straordinaria quella appunto di implementare l'illuminazione luminosa di piazza San Bovo e soprattutto di piazzale Marconi ho provato a permettere due, quattro lampioni a led ed effettivamente si è visto che funziona veramente da deterrente perché la gente non sosta, la gente così un po' a borderline non sosta lì sotto mi auspico che questo inizio poi possa far sì possa essere questo primo step che ho avviato possa essere davvero un primo step di quel percorso di ottimizzazione della sicurezza devo dire una cosa e lo dico francamente mi spiace che oggi purtroppo anche gli enti locali siano costretti a cercare delle soluzioni che facciano da deterrente e facciano da palliativo quando ci vorrebbero delle leggi che tutelassero realmente noi cittadini italiani di fronte alla delinquenza e al delinquere ha chiuso i battenti l'associazione Fuori Posto l'associazione culturale che negli ultimi anni ha animato la città con iniziative di vario genere questo per motivi personali ma non solo vado a citare le parole di Massimo Pilla per l'impossibilità di vederci assegnata una sede come succede altrove per proporre attività e incontri regolari la considera una sconfitta per l'assessorato alla cultura oppure no? Prima di tutto l'assessorato cultura non dà sedi se potessi dare i sedi le darai a tutti quelli che me le chiedono deconestamente ma non dipende dall'assessorato cultura in secondo luogo alle associazioni che fanno richiesta solitamente il momento in cui si trova uno spazio libero viene assegnato ci vuole pazienza e capire comunque che se si vogliono fare delle iniziative a pagamento si cerca naturalmente, non si può pretendere di avere una sede gratuitamente io non so niente del percorso dell'iter di questa loro richiesta perché non dipende dalla mia delega so che tutte le associazioni, potete chiederlo, che hanno fatto richiesta col tempo, nel momento in cui c'era una disponibilità anche di uno spazio a questi è sempre stato concesso vorrei ricordare a tutta la città che questi spazi sono pagati da tutta la città Non sappiamo se tra pochi mesi, perché giovedì il TAR nuovamente proseguirà il proprio iter relativo al ricorso post elezioni tra l'altro ha proprio detto cosa ne pensa, come andrà a finire? Io non sono un giudice, non sono... non fatemi dire niente, non è caso C'è chi la vede bene, la vedrebbe bene e come candidato sindaco di centrodestra alle prossime elezioni Lei si vedrebbe bene? Sì Sì, punto Assolutamente, mi piacerebbe molto mettermi in gioco di più per la mia città e lo farei veramente volentieri sono sempre con Barbieri comunque Grazie mille A lei Grazie mille Grazie a tutti.